Pace fatta con i sindacati, c'è stato un incontro ieri, ritirato lo sciopero previsto per oggi e anche quello per giugno. L'accordo si è basato su cosa? Sui fatti che l'azienda ha portato e sui fatti che la Regione è riuscita a portare in un'ultima la legge sui servizi minimi. Ritenevo allora, continuo a ritenere oggi, che non c'erano le condizioni per lo sciopero, l'ho sempre detto. Era una chiara forzatura, però ha aiutato ulteriormente a confrontarci e a trovare la soluzione. Oggi, dopo un anno, noi celebramo un'azienda che si è fatta, che realizza economie, che ha salvato posti di lavoro, che comincia a comprare nuovi autobus. Insomma, dopo un anno alla nascita di Tua possiamo festeggiare. Se avessimo sentito profeti di sventura, oggi saremmo con le società fallite. A un anno dalla nascita di Tua in realtà si scopre che i tagli fatti dalla Regione hanno prodotto un tesoretto. Questo tesoretto porterà anche all'arrivo di nuovi mezzi, pace fatta con i sindacati, i servizi verranno garantiti nonostante tutto. Hanno portato a un recupero di economicità nella gestione e a un recupero di efficienza. Questo ci ha consentito di chiudere definitivamente il capitolo del risanamento e di aprire il capitolo dello sviluppo. Sviluppo significa nuovi autobus, significa potenziare la rete delle officine, significa tornare a crescere. Siamo soddisfatti perché con l'azienda si è riaperto un colloquio costruttivo. Soprattutto abbiamo risolto delle questioni che stavamo sollecitando da tempo, ad esempio il riconoscimento del premio del risultato, ma soprattutto l'indizione di una serie di riunioni per definire il piano industriale aziendale. Qual è il risultato più importante dell'incontro di ieri? Ci sono vari punti. Noi chiediamo un'accelerazione sulla razionalizzazione e sugli efficientamenti perché ci sono degli sprechi e quindi noi dobbiamo eliminare prima di toccare la tasca dei lavoratori. La CGL in realtà due scioperi aveva proclamato ritira anche quello del 10 giugno. L'incontro di ieri ha portato delle buone notizie. Sì, dall'incontro di ieri sono scaturite delle buone notizie che attengono ad esempio le risposte occupazionali. Quindi noi abbiamo avuto garanzie rispetto alla necessità di inserire nuovo personale di manutenzione per risolvere i problemi che riguardano appunto il materiale rotabile.